Che cosa sta succedendo a Brawl Stars? Brawl Stars è un cavallo pazzo, attualmente sta ottenendo dei risultati eccellenti, si vede dalla classifica di Google Trends, dalla classifica della ricerca utenze e download app su App Store e Play Store. Insomma, un gioco che si è ripreso magicamente senza un aggiornamento da tre mesi. Un aggiornamento che sta per arrivare, che potrebbe effettivamente confermare il ritorno di Brawl Stars. Insomma, oggi parliamo di tutto questo, mi raccomando voi iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like, come al solito mi trovate in live tutti i giorni su Twitch e TikTok, sotto in descrizione il link. Chi vuole seguirmi in toto mi trova anche su Instagram, anche quello il link sotto in descrizione. Se qualcuno di voi vuole la mia amicizia, ragazzi mi raccomando, abbonatevi al canale, costa 2€, se no vi abbonate su Amazon Prime con Twitch, insomma, avete delle varie possibilità, vedete voi cosa fare. Io direi di trasformarci subito in Detective e andare all'interno di Brawl Stars, andare a giocare, vedere che cosa è cambiato, perché io sinceramente, personalmente, sono molto molto curioso di saperlo. Innanzitutto, vedete bene anche voi, io sono un player che di base gioca poco, off live, ma devo dire la verità, con Brawl Stars mi sta tornando un po' lo sghiribizzo. State vedendo anche voi dai risultati che sto ottenendo. Io sono un player old style, nel senso che ho tutti i beige, o anche quello del livello 1, dell'anno 5, insomma, ho delle cose allucinanti. Questi sono un OG player, tra virgolette, questo account, per chi non lo sapesse, risale ad agosto del 2018, quindi addirittura prima che venisse lanciato globalmente, insomma. Ho anche dei video che lo dimostrano, uscirà poi, se dovesse esplodere il gioco, un video nel quale vado a fare una sorta di recensione a quello che ho fatto, in passato su Brawl Stars, secondo me è un video che fa ridere e potrebbe aver senso farlo. Attualmente per arrivare in top 50, in top 200 Italia, bisogna avere 69.000 coppe, sono ancora molto molto distante, ma io non demordo. Andiamo a far subito una partita. Allora, che cosa sta funzionando su Brawl Stars? Partiamo da questo presupposto. Quello che secondo me sta funzionando è, diciamo, un po' la nostalgia. Una nostalgia che è già stata vista in passato con Clash Royale, è già stata vista in passato con A-Day. Insomma, non ci sono grandi giochi che stanno uscendo, sicuramente attualmente, come vi ho già spiegato nel video dove ho spiegato un po' qual è il piano di Supercell per il 2024, e anche che cosa è successo al brutto, purtroppo, Clash Heroes, Supercell sta puntando su giochi che rimangono. E Brawl Stars sembrava, per un periodo di tempo, seppur iniziale, non rimanere più di tanto. È durato due annetti di grande boom e poi è purtroppo andata. Andata al bar, questa potrebbe essere, ragazzi, una cosa che è dovuta a vari fattori, ne ho già parlato anche in altri video. Si parla sicuramente di un fattore prevalentemente di potenza del gioco come Clash Royale, o anche altre casistiche che comunque andremo a vedere più avanti. Ma che cosa spinge i player attualmente a giocare Brawl Stars? Come si può intravedere dall'App Store, come vi ho detto prima, andando nella sezione giochi, andando proprio sulla sezione top giochi gratuiti, che sarebbe la top di giochi scaricati gratuiti, non a pagamento, il gioco si posiziona in ottima posizione rispetto soprattutto a quello che era un anno fa. Un anno fa, ragazzi, Brawl Stars non era neanche in top 10, vediamo un Monopoly Go in forte, forte discesa, un Brawl Stars che continua a tarellare, dritto come un drago. Stessa cosa se andiamo proprio sul telefono, perché poi questa quella, diciamo, è il download dal punto di vista iPad, dal punto di vista telefono non è che la situazione cambia più di tanto. Se voi andate su top giochi gratuiti, il Brawl Stars lo vedete sempre al primo posto, come potete visualizzare. Il gioco sta funzionando, secondo me, per varie motivazioni. Per non ripetermi, oltre alla nostalgia, quello che funziona attualmente è la ladder. Una ladder che, naturalmente, spinti dal tutto mondo di TikTok, che sta andando decisamente bene nel mondo di TikTok Brawl Stars, sta spingendo molto sul rank 25, sui rank 25. Molti player come me si sono ritrovati tutti i brawler scesi a coppe allucinanti, parliamo di 500 coppe, robe che io non ho mai visto in vita mia, soprattutto chi di voi mi segue sa che io ho tutti i brawler attualmente al grado 25 e mi stanno chiedendo continuamente, ma boh, perché c'hai 5, c'hai al grado 25 e poi sono scesi così tanto di coppe? Bene, sono tutti dei brawler che io ho portato, giuro che ho portato, tre anni fa, tre, quattro anni fa, e sono scesi pian piano di coppe. È una cosa normale, è una cosa fisiologica che nasce dal fatto che uno non ha giocato al gioco. Attualmente quello che funziona è il reset, il reset delle coppe è un reset molto molto lieve, uno non se ne accorge neanche, vi parlo per me per quanto mi riguarda, che ho passato i tempi precedenti a perdere coppe su coppe, 3000 coppe, uno doveva recuperare il lavoro fatto in precedenza, insomma, dei disastri succedevano quando c'era il reset. Adesso non è più così, io personalmente l'ultimo reset mi sembra che ho perso neanche 150 coppe, uno con le win streak le fa veramente in due secondi, e un'altra cosa che funziona tanto, come appunto da me appena citate, sono le win streak. Le win streak penso che siano state un'ottima mossa per catturare nuova utenza per quanto riguarda il gioco, sono piaciute, sono piaciute anche a me personalmente, perché mi ero un po' rotto di dover continuamente andare a sprecare tempo, a scalare, a fare vittoria sconfitta, se adesso uno trova un team che funziona, quindi un team ragazzi valido, non un team di... una porcata, ma un team che funziona, è giusto che faccia coppe per quanto mi riguarda, e quindi è giusto che sia stato dimezzato perlomeno in una prima parte, perché è oggettivamente una prima parte dove è stato dimezzato, la durata di push, quindi uno se adesso ha il team che funziona, ci mette molto meno tempo, perché basta che te ti carichi la, diciamo... No, ho sbagliato, ho sbagliato io? Qua è assolutamente colpa mia e non dovevo assolutamente fare una roba del genere, tira via la palla, bravissimo. Diciamo che attualmente se te hai un team che funziona, in questo momento con la win streak livello massimo, in pochi secondi ti fai 50 coppe, perché alla fine bastano 4 partite. Prima quante ne servivano? Ne servivano 7, quindi risparmi 3 partite di tempo. E ti posso assicurare che prima, 3 partite di tempo, ne erano un bel po'. Erano un bel po' perché il gioco era più difficile, non che adesso sia facile, ma secondo me, proprio a livello di persone che giocavano al game, c'era un'altra mentalità nel gioco e prima la gente era arrabbiata seriamente, io sinceramente non ho mai capito questa cosa qua, ma attualmente il game risulta un po' più semplice. Più semplice cosa vuol dire? Più semplice vuol dire che se prima appunto ci dovevi sbattere la testa più volte per fare un rank 25, ora se hai il team che funziona lo fai abbastanza veloce. Quindi questa è la cosa più importante. Dall'altra parte funziona, ci sono alcune cose che non funzionano, Lega delle Stelle, la fama e il Super se sembra che le stiamo modificando. Vedremo appunto un nuovo aggiornamento che potrebbe confermare un ritorno proprio di Brawl Stars, non che adesso non sia ritornato, perché oggettivamente i numeri parlano chiaro, il gioco è tornato. Bisogna vedere se si conferma questo ritorno. E personalmente io sono molto curioso di andare a vedere il nuovo Brawl Talk, che andremo ad analizzare assieme, andremo a vedere in live, andremo a commentare in maniera molto 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 stabile nel tempo e secondo me ne vale assolutamente la pena. Quindi insomma, speriamo che sia il 2024 il ritorno di Brawl Stars. Io spero che questo video vi sia piaciuto, voglio sapere però le vostre opinioni questa volta nei commenti, quindi mi raccomando, vi aspetto nella sezione qua sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel mi piace. Noi ci vediamo domani alle ore 14, sempre attivi qua sul channel. Andatemi a seguire su Twitch e TikTok, perché li streamo quotidianamente e so che molti di voi sono interessati a sapere cose, quindi vi aspetto. Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao!